Tra i dieci imprenditori italiani più influenti indicati dalla rivista Forbes New York c'è la piacentina Chiara Bergonzi, imprenditrice del settore del caffè dove si è contraddistinta anche come formatrice, consulente e giudice internazionale. Le gare sono state la prima passione e per tre anni consecutivi, dal 2012 al 2014, era stata campionessa italiana di latte art, tecnica di decorazione dei cappuccini. Nel 2014 era arrivata seconda ai campionati mondiali, tre anni dopo ha creato il marchio Lot Zero, torrefazione situata nel centro di Milano e dedicata ai caffè speciali. La piacentina è l'unica donna della top 10 di Forbes. È un riconoscimento importante, io lavoro nella coffee industry da tanti anni, da 12 anni e quindi vabbè con i giornali un pochino anche italiani di settore, anche una stampa abbastanza importante, sono abituata però Forbes tutti lo conoscono, non è banale esserci. Una delle domande che mi fanno sempre è tu come donna imprenditrice, comunque con la carriera come hai fatto e quindi cerco sempre di spiegare che fortunatamente magari lavorando in modo autonomo non ho mai avuto questa diciamo problematica che magari tante donne nelle strutture da dipendenti o anche a livello contratuale ancora oggi nel 2023 possono subire. E dall'altro lato, come aver fatto magari una carriera così veloce, racconto sempre che comunque con tanta passione, tanta dedizione, costanza in quello che faccio è la visione, più che altro la visione di quello che può essere proiettato nel futuro. Io dico sempre una frase che sul treno non ci salgo mai quando è partito ma cerco di cogliere ancora prima di vedere dove sta andando. Da Piacenza il lavoro porta Chiara Bergonzi in ogni angolo del mondo, a breve partirà per Taiwan dove è in programma un evento internazionale.